LIC, ben ritrovati i miei cari eventori dell'Uisona Bar Calcio ieri sera prima di addormentarmi il mio cervello pensava e ripensava a tutta la cronologia, la cronistoria dell'acquisizione di Zekze e alle varie voci nel tempo che sono state rilasciate anche dalla nostra proprietà nei nomi proprio dei nostri dirigenti in primis Marco Divaio che sul finire di dicembre 2023 aveva rilasciato alla Gazzetta dello Sport un'intervista all'interno della quale non è che si potesse andare tanto a interpretazione e lui all'interno di questa intervista a domanda del giornalista che gli chiede proprio testualmente ci racconti della clausola che campeggia nel contratto di Zekze e Divaio dà una risposta che è abbastanza netta e adesso da questa noi diramiamo un ragionamento e cerchiamo di capire assieme i miei carissimi dove possa insinuarsi la verità non parleremo ovviamente solo di questo, parleremo anche di calcio mercato perché proprio su Zekze nelle ultime ore sembra che la quadra possa essersi trovata non in direzione Italia-Rossoneri del Milan ma in direzione altrove adesso rendicontiamo questo e molto altro quindi rimanete ad easy-quasi perché sarà un viaggio che faremo insieme tra i nostri meandri prima però di incominciare iscrizione e condivisione Amrachmad pollice sempre alto e il mi piacino ovviamente al video del qui presente insomma non che erudito è permesso e concesso grazie allora stavo dicendo no perché so che molti di voi adesso si sono incuriositi moltissimi sapranno già che cosa sto per dire perché se lo ricorderanno magari avranno avuto la gazzetta sotto mano a quel tempo o addirittura peggio ancora ci sarà chi tra di voi avrà ritagliato il trafiletto sarà andato dal quadrarolo e l'avrà messo appunto a parete perché che cos'è chi dice Divaio senza girarci ancora troppo tono alla domanda no del giornalista ci pari della closer di Zirkzee Divaio risponde vale solo per il buyer di Monaco articolata ma per gli altri club il prezzo è libero ora l'italiano mi rendo conto che può essere a libera interpretazione però insomma come si può interpretare questa questa frase di Divaio alla luce di oggi come ho una menzogna cioè sapeva di mentire e l'ha fatto e uno dice ma Luizona l'ha fatto perché non voleva che si sapesse che appunto era libero ma voleva circoscriverlo solamente al buyer di Monaco non ti preoccupare ha fatto bene allora io però a chi ragiona così dico ma scusate se è stato fatto dunque il contrario perché il suo procuratore voleva così ma secondo voi il suo procuratore non avrebbe tutto l'interesse eventualmente di andarlo a spifferare i 420 ragioniamo un attimo il che allora fa decadere secondo me il fatto che Divaio in quel momento stia mentendo sapendo di mentire perché sapeva avrebbe cioè era una menzogna di Pinocchio perché mai perché mai allora mi viene da pensare anche alla luce di tutto quello che sta emergendo no riguardo al Milan che lo vorrebbe ma si sta trovando lo scoglio di questi 15 milioni di commissioni perché si è scoperto che chi a Giorbacian la gente di Joshua Zirkzee è un osso duro per cui vuole tanti bei dollaroni lo stesso dunque Giorbacian a suo tempo per convincere Zirkzee che tornando a ritroso nel tempo giocava nell'Anderlecht seppur di proprietà appunto del Bayern di Monaco si narra non fosse all'epoca tanto dell'idea di tornare a giocare in Italia e di accettare il Bologna e allora Giorbacian convince tutte le parti ok e appunto per convincere anche il Bayern di Monaco il giocatore e poi il Bologna che voleva non spendere troppo allora ha trovato questa bella formula no voi Bologna lo pagate 8 quindi poco però assicurate una clausola appunto di futura rivendita del 40% al Bayern di Monaco e anche qua apro una postilla tra pochissimo e in più ci assicuriamo il prezzo massimo che vale per tutti di 40 milioni di euro si saranno stretti tutti la mano a questo punto perché i contratti si firmano in questa maniera e avranno tutti firmato al che mi chiedo anzi prima aggiungo il 40% che oltretutto inizialmente era stato detto sulla plus valenza invece adesso sembra addirittura sul totale no inizialmente quindi era stato detto erano state dette tante inesattezze perché dico così? Perché io leggo da qui e dall'altra parte che il Bologna ricaverà come appunto guadagno dalla cessione di ZXZ dai 20 ai 21 milioni di euro al che mi vengo a pensare allora il 40% è sul totale non è vero che era sui 32 esclusi gli 8 perché altrimenti la cifra sarebbe leggermente un pochetto più alta perché sarebbe intorno ai 26 mi sembra di ricordare 26-27 milioni ma se te mi parli di 20-21 milioni allora vuol dire che il 40% era anche sul totale quindi peggio che andare di notte cioè non solo questo ma addirittura la clausola dei 40 valeva per tutti allora mi vien da pensare ma non è che Giorgio Orbachian è talmente un gran bel volpacchiotto che magari aveva redatto il contratto in una maniera tale per cui ai nostri volponi magari chissà magari nella Fenucci che in Fenucci che doveva controllare sto facendo delle supposizioni non sto dicendo che è così sono qui che sto facendo dei ragionamenti mi chiedo viste e considerate le parole di Divaio a fine dicembre che sono certificate dalla Gazzetta in un'intervista non me la invento mica dice vale solo per il buyer articolata per gli altri creb il prezzo è libero allora mi vien da chiedere e vi chiedo ma non è che il Bologna è stato un po' infinocchiato da Giorgio Orbachian e noi ci siamo caduti con tutte le scarpe chiudo la parentesi a voi l'ardo a sentenza c'è chi dirà di sì c'è chi dirà di no però insomma ecco sarei curioso chi dice di no vorrei sapere allora dov'è la verità perché non mi venite a dire Divaio ha mentito sapendo di me perché allora scusate c'è il procuratore non è che solamente Divaio sapeva la verità cioè il procuratore il contratto di Zerzello poteva andare a spifferare i 420 come poi avrà fatto perché altrimenti come si fa a sapere di tale clausola era in tutto interesse di Giorgio Orbachian che si sapesse non certo che si nascondesse comunque va beh questa qui è una parentesi mica tanto da da ridere nel senso secondo me merita effettivamente un approfondimento quando io dicevo è stato fatto è stato preso un Zirkzee pensando fosse un pezzo da 70 si è rivelato un pezzo da 90 sicuramente si è sbagliato qualcosa secondo me oggi è palese nell'acquisizione di questo giocatore secondo me qualcosa comunque è sfuggito deve essere sfuggito qualcosa perché 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 oggi siamo e qua allarghiamo al calciomercato attuale secondo me oggi chiudere non so se siete d'accordo con me un'operazione nei criteri di quella che è stata fatta come Zirkzee è da evitare cioè se noi adesso dovessimo sapere che Ioannidis e qui facciamo il crossover visto che si parla di Fotis Ioannidis come sostituto di Zirkzee per cui tra l'altro sembra che il Bologna abbia fatto come prima offerta 18 milioni più 2 di bonus totale 20 che guarda caso è proprio i soldi che andrebbe a ricavare da Zirkzee abbiamo raccontato tra i 20 e i 21 milioni più o meno poi il Bologna vediamo se farà un esborso in più anche qua sembra quasi che si possa andare a spendere solamente ciò che si ricava dopo una stagione come quella che si è fatta tutti gli introiti che ne saranno derivati e quant'altro sembra che i soldi quasi si facciano fatica a tirare fuori comunque adesso per carità è presto stiamo a vedere non è neanche il primo luglio finestra temporale apertura d'acquisizione fiducia sartori tutto vale ok però qui si stanno facendo adesso delle diragionamenti allora no si dice Ioannidis 18 più 2 ma se poi si dovesse venire a sapere che magari abbassiamo il prezzo di Ioannidis perché diamo il 40% della futura di vendita al Panathinaikos e inseriamo nella clausola che ne so una clausola recessoria di 45 milioni di euro oggi io penso non saremo più tanto felici di un'acquisizione del genere qui penso si sia tutti d'accordo oltretutto che in parte e mi tocchi i maroni perché non vorrei che poi magari a luglio inoltratto si venga a sapere nel contratto di Calafiori che in realtà c'è una postilla che lascia intendere che il giocatore abbia una clausola recessoria libera per tutti e magari no perché dico anche il contratto di Calafiori che è stato fatto a suo tempo col Pasilea recita questa famosa futura futura plusvalenza che la squadra venditrice fa perché si è mantenuto un 40% sulla futura rivendita per me è una roba da polli pazzeschi specialmente su Calafiori perché possa valere su Zig Zee perché se no ti veniva a chiedere la luna il monte non sarebbe venuto perché non era convinto ma Calafiori voleva tornare in Italia a tutti i costi non era cagato da nessuno per carità l'abbiamo pagato 4 quanti poteva chiederne il Basilea in più dai quanti potesse se per Indoiene ha chiesti quanti ne ha chiesti 10 quanti ne avrebbe mai potuti chiedere in più per Calafiori allora mi viene da pensare per andare a risparmiare i due voglio stare largo 3 milioni so ce ne siamo andati a smenare su Calafiori quanti ne dovremmo dare se mai dovesse essere mi tocco le balle perché spero di no ceduto a 50 milioni cioè il Basilea se ne piglia se ne piglia qualcosa secondo me come 20 barra 25 ma una roba adesso faccio meno di 25 è ovvio però per capirci una ventina una roba fuori da ogni mondo cioè per non andare a mettere qua 3 in più ne ne diamo ma per me è fuori da ogni coppa secondo me qualcosa si è sbagliato poi dire questo non vuol dire ovviamente dare del somaro a qualcuno però qualcosa secondo me va rivisto e oggi nelle nuove acquisizioni si deve evitare di fare questi errori detto questo Ioannidis abbiamo detto se con il giocatore è tutto apparecchiato 4 anni di contratto quasi 2 milioni di euro a stagione Gossens c'è una forbice che abbiamo raccontato essere sottile che pende intorno ai 2 milioni di euro 2 milioni e mezzo la forbice si troverà sicuramente all'accordo perché Gossens stesso ha già detto che aspetterà Bologna e vuole giocare con noi Holme notizia di queste ultime ore si è provata ad inserire la Juve ma non ci riuscirà è un'azione di contrasto che la Juve stessa fa perché nelle ultime ore per avere Calafiori la Juve aveva avuto la bella idea di inserire Moise Keane ma il Bologna non ci sta a sentire fortunatamente da nessun orecchio e dice ad ogni offerta della Juve su Calafiori no e allora si narra che la Juve indispettita pensate come stanno messi la Juve invece di pensare al suo mercato sta messa che va a fare le azioni di contrasto al mercato degli altri allora tutto ad un tratto si sarebbe inserita no nella nella trattativa per Eminolm con la partecipazione del Genova un'acquisizione quindi duplice dove la Juve lo acquisirebbe ma lo manderebbe in presito al Genova tutte cagate perché tanto non riusciranno in questi intenti in quanto il procuratore amico poi del Bologna in questo caso perché si tratta di sempre sempre lo stesso no si ho capito bene Michelangelo Minieri che è lo stesso di Fabiano lo stesso di Orsolini lo stesso di Cuame lo stesso di Bonifazi insomma tutta una serie di giocatori che il Bologna sappiamo sappiamo e quindi insomma questo non accadrà per questa motivazione qua quindi come vedete ci sono delle volte gioie e dolori in questo in queste sorte di amicizie con i procuratori amicizie dico anche qua perché basta vedere le procure allora mi viene da pensare che con qualche d'uno si riesce a trovare delle diciamo delle dinamiche d'amicizia privilegiate quindi ecco non penso che la Juve riuscirà in questa sua azione di disturbo però questo fa capire l'asilo nido in cui si situa la dirigenza bianconera carissimi direi che abbiamo messo della carne su fuoco di cui raccontare parlare e dialogare fatemi sapere box commenti a vostra disposizione che cosa ne pensate campanaccio pastorale sempre attivo e noi ci sentiamo alle prossime chiacchier da bara